Buon pomeriggio Paolo e soprattutto buon pomeriggio ai tuoi ospiti, linea a te. Grazie, grazie Alfredo, un buon pomeriggio ovviamente a te, ai nostri telespettatori, detto bene siamo all'esterno dell'ospedale civile di Pescara con il direttore generale dell'ASL Antonio Caponetti e con Bruno Ciucca, responsabile unico delle liste d'attesa per quanto concerne proprio l'ASL di Pescara. Io partirei ovviamente dal dottor Caponetti per parlare, come diceva anche il collega da studio, di un argomento che in queste ultime ore è sicuramente molto caldo, molto sentito, quello che riguarda l'abbattimento delle liste d'attesa perché si sta tornando gradualmente, gradatamente verso la normalità, però c'è questo problema e non è un problema da poco delle liste d'attesa, ovviamente dopo l'emergenza sanitaria. Certamente, con l'emergenza Covid abbiamo dovuto sospendere quelle visite che normalmente l'azienda offriva e quindi si sono accumulate una serie di richieste che nei prossimi mesi dobbiamo cercare di risolvere in qualche modo. Quindi c'è un accumulo di visite pregresse e ci sono anche dei problemi legati al fatto che le visite che abbiamo ripristinato comunque richiedono dei tempi più lunghi per rispettare le normative in materia Covid, quindi è necessario un doppio impegno, uno di recupero e uno di ridurre il possibile incremento legato proprio al fatto che le visite vanno distanziate, che nelle sale d'attesa devono essere presenti pochi utenti e questi utenti devono essere trattati con tutte le accortezze richieste dalla normativa anti Covid, quindi ci sono una serie di problemi importanti che interessano questa ASL, ma tutte le aziende ASL di questo Paese ovviamente. Ovviamente è un problema che riguarda, come diceva lei, anche le altre ASL abruzzesi, i numeri sono numeri sicuramente importanti e per abbattere queste liste di attesa, Dottor Caponetti, la Regione ha varato un programma che prevede anche visite nei giorni festivi e anche fino alle 22, quindi orari prolungati e giorni che normalmente sono dedicati al riposo e alla festa che verranno utilizzati, verrebbero utilizzati per cercare proprio di andare incontro all'utenza. La Regione ha dato delle dettive di massima che poi devono essere calate in ogni azienda tenendo presente le realtà di ciascuna, tra le ipotesi di lavoro c'è anche quella di incrementare le ore di lavoro e eventualmente di poter interessare anche i giorni festivi, questo compatibilmente con le necessità di recupero che abbiamo in tanti nostri operatori che hanno vissuto dei mesi intensissimi e faticosi, per cui dovremo valutare opportunamente tutte queste possibilità cercando di offrire un prodotto utile e necessario. Io entrerei ancora più nello specifico con Bruno Ciucca, responsabile proprio delle liste d'attesa del RUA dell'ASL di Pescara, parlavamo dei numeri in apertura di questo collegamento, per quanto riguarda l'ASL di Pescara ci sono oltre 40.000 prestazioni da erogare, arretrate e per quanto riguarda invece la totalità delle ASL abruzzesi arriviamo a oltre 200.000. Noi come dato attuale abbiamo all'incirca 41.000 prestazioni da recuperare che sono stato oggetto della sospensione ai sensi delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale che è emanata nei mesi di marzo, aprile e maggio. Chiaramente la situazione regionale, i numeri delle altre ASL devono essere ancora comunicati, credo che compatibilmente con il numero dei residenti siamo in un ordine molto vicino a quello dichiarato dall'ASL di Pescara in questo momento. Come dicevamo anche prima, c'è questo progetto, questo programma che è stato stilato dall'assessorato alla sanità che ovviamente prevede un allungamento dei tempi per quanto riguarda le visite e anche la diagnostica, tra l'altro ci sono anche quei ricoveri non urgenti che erano stati rinviati proprio nel periodo dell'emergenza e a cui ora dovrete in un certo senso far fronte. Sì, la recente ordinanza numero 76 del Presidente della Giunta regionale dà le indicazioni di massima alle aziende sanitarie i criteri per la riattivazione e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei ricoveri secondo la normativa delle classi di priorità. Quindi se fino a questo momento, fino al 20 giugno, non abbiamo erogato solo le prestazioni che avevano determinate classi di priorità, ad oggi possiamo riattivare anche le prestazioni sia in regime di ricovero che in regime di specialistica ambulatoriale in classe programmata, quindi cosiddette non urgenti. Chiaramente noi dobbiamo tener conto, come diceva il Direttore Generale Dottor Caponetti, anche delle prescrizioni vigenti e delle linee guide in materia di contenimento di quella della diffusione del Covid e quindi tutta una serie di prescrizioni che vanno finalizzate dalla sicurezza e degli utenti e anche degli operatori sanitari che credo sia un aspetto molto importante far lavorare in sicurezza anche i colleghi che erogano le prestazioni. Certo, io prima di dare la linea anche ad Alfredo Primante allo studio coinvolgerei nuovamente il Dottor Caponetti anche per un'altra questione perché ovviamente noi parliamo dell'ospedale di Pescara, ma della ASL di Pescara fanno parte altri due ospedali, l'ospedale di Popoli e quello di Penne. Qualche mese fa Dottor Caponetti avevate avviato un progetto che aveva dato ottimi risultati per quanto riguarda l'ortopedia, unendo le forze degli ospedali di Penne e Popoli sotto la guida, se non ricordo male, del Dottor Palmieri. Lo stesso progetto potrebbe essere esteso anche ad altre specializzazioni come per esempio Otorino, però tornando all'ortopedia qualche mese fa questo progetto coordinato dal Dottor Palmieri mi sembra abbia dato ottimi risultati. Da quello che abbiamo potuto vedere in effetti è andato così, anche se era una soluzione che è stata osteggiata, abbiamo pensato che considerate le risorse disponibili potesse essere una soluzione a dei problemi altrimenti irrisolvibili. È possibile l'estensione di questo approccio anche ad altre specialità. Per quanto riguarda Otorino, recentemente abbiamo nominato il Dottor Ben responsabile di una WOSD, quindi un'unità territoriale con autonomia rispetto alla WOC di Otorino. Sono dei modi per cui con risorse modeste si cerca di rispondere a delle carenze di territori che altrimenti non sarebbero opportunamente serviti. Così facendo tra l'altro Dottor Caponetti si risparmierebbe anche, ma si darebbe anche la possibilità a questi due ospedali di mettere in evidenza le loro specialità, le loro peculiarità e anche le loro eccellenze. Sì, assolutamente. Si tratta di mettere assieme delle forze che da sole non basterebbero a reggere un servizio. Quindi facendo sinergia possiamo assicurare ad entrambe queste due nostre zone importanti, comunque delle specialità che altrimenti potremmo o non potremmo permetterci o potremmo permetterci con grandi difficoltà. Quindi è un approccio che ripeto può essere utile, può essere ripetibile, stiamo vedendo come estenderlo. Alfredo, il Dottor Caponetti ovviamente è a nostra disposizione, anche Bruno Ciucca per qualche domanda da studio. Sì, avevo un paio di domande per il Dottor Caponetti. La prima, tornando all'argomento liste d'attesa, riguarda le problematiche che genera questo tipo di recupero che si deve fare e se come ASL hanno in qualche maniera fatto già una roadmap per cercare di capire come riuscire ad accorciare il più possibile i tempi per gli utenti. Questa è la prima domanda, poi dopo la risposta le farò anche la seconda che riguarda un altro argomento. La soluzione semplice non è, non è un problema nostro, ribadisco, un problema nazionale che con il dramma Covid si è esteso dovunque con risvolti importanti. È chiaro, per recuperare ci vogliono risorse che la Regione ci ha promesso, quindi con le risorse, con qualche migliore organizzazione, coinvolgendo i privati accreditati, pensiamo di recuperare e chiaramente è una cosa tutt'altro che sempre. Tenete presente che le liste d'attesa, il problema di attesa era già esistente prima del Covid e quindi con i problemi che ci ha portato questa emergenza abbiamo avuto un'accentuazione di un problema già esistente, quindi non c'è una soluzione facile, non c'è una soluzione semplice, non c'è un'unica soluzione, quindi cercheremo di mettere in atto tutto quello che c'è possibile e a questo punto è assolutamente indispensabile che vengano dallo Stato centrale, della nostra Regione, risorse aggiuntive per poter assicurare la soluzione del problema. La seconda domanda invece riguarda i tamponi, volevo sapere se è entrata a pieno regime la macchina che avete lì nel laboratorio di riferimento vostro? Sì, la macchina è funzionante, ma assieme ad altre macchine per cui abbiamo una potenzialità importante a questo punto, ma non è solo una questione di macchine, è una questione di reagenti, quindi è una questione di personale che deve far lavorare queste macchine, quindi anche qui nulla è semplice. C'è pure da dire che ormai da giorni i casi positivi sono pochissimi o nulla, quindi in questa fase il problema è sotto controllo. È importante che siamo pronti ad affrontare una possibile recrudescenza che potrebbe esserci nei primi mesi autunnali, quindi abbiamo adesso un sistema rodato che potrebbe affrontare in modo molto migliore dell'inizio una possibile ulteriore emergenza di cui poco sappiamo, nel senso che nessuno sa poi se questa emergenza ci sarà o no, comunque ci stiamo armando per affrontarla e questo è già molto importante. Paolo per la chiusura del collegamento. Sì, per chiudere a proposito di questo argomento, dottor Caponetti, poi chiuderemo con Bruno Ciucca, attualmente quanti sono i positivi ricoverati all'ospedale di Pescara nell'ospedale Covid che è stato di recente inaugurato? Sì, la nuova struttura, sono stati trasferiti in questa struttura i pazienti Covid che avevamo nel monoblocco, sono sotto a 30 in questo momento, le condizioni sono discrete e progressivamente si andrà a una riduzione di questi ricoverati. Però anche lì è importante adesso avere a disposizione una struttura pluripotenziale che dovrebbe sostenerci in modo significativo all'occorrenza e ripeto, l'occorrenza potrebbe essere nei prossimi mesi autunnali. Bruno Ciucca, per chiudere, tornando all'argomento principale, quello delle liste di attesa, si va verso l'estate, verso i mesi caldi in tutti i sensi, soprattutto luglio ma agosto, periodo normalmente anche di ferie, di presenza di minor personale. State facendo i conti anche con questa questione in vista proprio di questo progetto della Regione, proprio per la riduzione e l'abbattimento delle liste di attesa? Dicevo, l'ordinanza 76 contempla che le aziende sanitarie predispongano dei piani per il recupero delle prestazioni oggetto della sospensione durante il periodo di emergenza Covid. Noi stiamo predisponendo e a giorni renderemo pubblico il piano dell'Asa di Pescara che si articolerà su vari fronti e l'ottimizzazione e l'estensione dell'attività ambulatoriale in orario istituzionale e in orario aggiuntivo. A tal riguardo è utile precisare che noi già attualmente facciamo funzionare la diagnostica pesante, attacca e risonanza fino alle 24 tutti i giorni feriali. Stiamo attrezzando anche la possibilità, valutando, di incrementare le ore delle specialistiche ambulatoriali interne, i specialisti che erogano principalmente le prestazioni a livello territoriale. In ultima analisi stiamo valutando la possibilità di collaborazioni con le strutture private accreditate che erogano in nome per conto dell'Asa delle prestazioni ambulatoriali. Queste sono le direttive su cui si sta basando il piano di recupero aziendale.